Amici di Moto.it, buon pomeriggio a tutti e bentrovati ancora a Moto Festival di Moto.it Ovviamente questo evento importantissimo e rivoluzionario perché vi ospiterà e vi intratterrà per tutta la settimana fino al 15 novembre parlando di tantissime cose. Model EAR 2021, sicurezza, approfondimenti dedicati al mondo della moto, alle aziende, ai piloti e anche ai personaggi che arricchiscono proprio il nostro universo a due ruote. Oggi ne abbiamo due in particolare che è stato veramente difficile mettere qui insieme con noi perché sono uno un pilota, quindi abituato a correre e riuscire a prenderlo, a chiapparlo, è difficilissimo. L'altro è una Iena di taglia 1 ma è anche un avventuriero, è un pazzo scatenato, sta ridendo al mio fianco, eccolo qua. Simone Zignoli, tra un po' arriveremo da lui, vedete che ride, bello beato in campagna, non so se in Sud America o dove. E l'altro è il nostro amico, c'è uno speciale, un docufilm uscito oggi su moto.it proprio dentro al Motofestival, lo conoscete già, Nicola Dutto. Ciao ragazzi, ciao Nicola. Ciao, 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 ciao. E io dicevo appunto guardate il Motofestival perché questo appuntamento di oggi l'ho girato io quindi sono anche un po' di parte però è stata la prova più emozionante di sempre con la tua moto Nicola. e invito tutti a vedere questo test e soprattutto ad ascoltare il racconto della tua vita che è il racconto della vita di un campione. Adesso però siamo con voi due insieme, perché voi due siete qua insieme? A chi lo faccio dire? Perché voi avete un collegamento molto forte, tra l'altro si è capito anche su Italia 1, un po' sorpresa per Nicola, Simone Zignoli e Matteo Viviani hanno buttato dentro Nicola Dutto nel servizio che è appena uscito proprio su Italia 1, sulle Iene. No, Simone. Gli abbiamo fatto una bella sorpresa, eh? Altro che, raccontaci come c'è finito Nicola Dutto, il nostro campione della Bahia, dell'Africa Eco Race, dei rally in genere. Nicola c'è finito perché quando mi sono imbattuto nella nuova avventura di mototerapia con questa ragazza, con Marika, che ha una tetra paresi spastico distonica, ho ideato questa moto, ho pensato nel mio immaginario di creare questa moto per portarla in giro. Solo che dove inizio a creare chi mi può aiutare? Nel mio immaginario sapevo che Nicola, poi grazie anche all'aiuto di Francesca, Nicola aveva già usato percorrere certi tipi di sedute e poteva avere gli agganci esatti e precisi per poter creare una cosa del genere. Francesca Gasperi ha fatto da tramite, tra me e Nicola, per poter interagire e per avere da Nicola i suggerimenti esatti e precisi con chi interfacciarmi, a cui rivolgermi, che sono queste ufficine ortopediche a Maria De Laide di Torino. Sì, anche perché Simone tu hai fatto un lavoro fantastico con Marika, l'hai portata in Sardegna. Tra l'altro invito la regia, Leonardo e Fabrizio, di far vedere le immagini del tuo viaggio. Magari le commento io, le commenti tu, le commenta anche Nicola perché sono un foto bellissime, vediamo se sono pronti. Perché hai portato? Eccoli qua. Qua sei con Francesca Gasperi che ti ha aiutato in centro e a sinistra. dello schermo c'è Marika. Marika. No Simone, dove sei? Sì, sì, sì. Qua siamo sulla spiaggia di Kia quando Marika ha fatto il primo bagno. Che poi ho scelto il giorno migliore per farle fare il primo bagno, che tirava vento, onde, mare, che faceva un po' di risacca. E lì mi è uscita forse la prima delle due ernie che mi sono uscite durante il viaggio. Perché tenerla in acqua non era assolutamente facile. Vabbè, quello che capita in Ego Strider. Ah sì? Però... Infatti, entriamo con la... Sì, scusa, scusa Simone. Tedevo la sorpresa che ho voluto fare a Nicola era proprio il ringraziamento della sua collaborazione, delle sue dritte. E io e Nicola non ci conosciamo neanche di persona. No, noi non ci conosciamo. È stata una sorpresa. Ci conosciamo. Ci siamo mai conosciuti. Però, per come sono fatto io, il minimo che potevamo fare era dare anche uno spazio alle gesta di Nicola e penso che sia stata una sorpresa gradita per lui. Sì, Nicola è una leggenda. Tra l'altro, dentro Moto Festival è un evento, questo evento della settimana di Moto.it dedicato al nostro mondo. È ovviamente aperto a voi che ci seguite da casa. Quindi tutte le domande fatecele sia a Nicola che a Simone perché siamo qua per rispondere. Cosa? Allora, risponderti direttamente. Adesso torniamo con la regia in campo con Simone perché hai fatto un viaggio davvero incredibile. Tra l'altro arrivano già le prime domande. Ecco, qui sei sempre al mare con Marika, la protagonista di questo viaggio. L'hai fatto uscire da casa in moto. Credo che veramente l'hai dato... Hai realizzato non un piccolo sogno, ma un sogno pazzesco per questa ragazza. Pazzesco fare un forco di... No? No, abbiamo realizzato qualcosa di incredibile perché nell'immaginario portarla a vivere determinate esperienze, a percorrere determinate strade perché poi alla fine ci siamo imbattuti anche in qualche sterratino abbastanza difficile è qualcosa di magico per lei. Il contatto con le persone, aver dormito all'aria aperta, cose che nel nostro immaginario ti pone in quello che faccio io, è un po' la roba di tutti i giorni. Vedere nei suoi occhi la gioia di un viaggio del genere è qualcosa di impagabile. È una delle emozioni più belle della mia vita. Adesso torniamo un attimo anche a Nicola perché spieghiamo che con Nicola c'è qualche problema di collegamento con Cuneo, quindi cerchiamo di passare la palla tra Nicola e Simone a seconda anche della connessione. Quando la connessione ci aiuta rientriamo subito da Nicola. A proposito di imprese, voi siete i due uomini delle imprese perché tu sei stato protagonista con Mari e Simone in passato con Nathan, sempre su Italia 1. Nicola invece è lui protagonista perché è un pilota, è un campione che fa delle cose pazzesche. Lo ricordiamo a chi ci sta seguendo e non lo conoscesse, ma credo che siano pochi. Tu con la moto, Nicola, hai fatto delle avventure incredibili dopo un incidente di dieci anni fa, sei tornato in sella, ce l'hai fatta provare anche oggi. Vedi, quello che dicevo della connessione c'è qualche problema. Ed è un altro eroe del nostro mondo. Simone, per quello che faccio i ragazzi più scortunati. Ma Nicola dov'è? In Burkina Faso? Ma Nicola è benedetto. Nicola è benedetto come se fosse in Burkina Faso. Salta, va e viene la connessione. Esatto. Però Nicola, adesso approfitto di Fabrizio. Vediamo un attimo il contributo video che hanno preparato e poi ci racconti tu cosa combini con questa moto che io ho guidato, io non riuscivo a guidarla in piano. Guardate cosa combina Nicola. Commentale pure tu, Nicola. Ah, se riesco. Vabbè, qui sono le immagini dell'ultimo Africa Ecoreis, le dune del Marocco. Un po' di preparativi. Probabilmente qui siamo, sì, prima di partire per una speciale. La mia casa, le vecchie immagini. Eccolo qui, Nicola, che parte assistito dalla moglie Elena. Elena che poi lo accoglie a fine tappa perché le gare sono veramente durissime. Nicola, adesso lo vediamo da solo, però ha sempre gli uomini ombra che lo devono seguire e aiutare in caso di caduta per risollevare la moto. Ecco la partenza assistita, poi il suo uomo ombra sale in moto e lo segue, se ce la fa perché seguirlo ci vuole un gran gas. E qui siamo insieme invece, Nicola, durante la prova della sua incredibile KTM 500. La moto è incredibile fino a un certo punto, qua di veramente incredibile c'è proprio il pilota. Vediamo se Nicola c'è, lascio ovviamente la parola a lui. Se non hai visto che era atta di moto? Cacchio, è spettacolare. Eccomi qua. Tu l'hai guidata? Ecco, l'ho guidata e mi sono commosso, non tanto per la moto in sé, la moto è una KTM 500, la conoscevo già. Mi sono commosso durante quella prova perché ho colto le difficoltà che affronta e che supera alla grande Nicola, perché guidarla già in piano è difficile. Io poi ho seguito Nicola in mulattiera, lo seguo da anni nei rally, so cosa combina con questa moto, e ha una forza tua fisica, di volontà mentale, che non è da, ma neanche da uomo medio, è proprio da campione. Ce ne sono pochissimi con una forza, un animo così forte. E onestamente, ancora quel giorno non l'abbiamo mai parlato perché Poverino sta soffrendo tanto, però io di forti come te il pensiero è quello soltanto ad Alex Zanardi. Una forza di volontà che supera l'immaginabile da noi uomini normali, no? Vediamo se... Vabbè, te l'ho detto durante l'intervista, quando... Simone, come disegni, oggi è un po' in Sud America, Nicola. Sì, mi sa che si sta già allenando per la prossima Dakar del 2021. Comunque sì, Nicola ha una storia veramente incredibile. E' bello che iniziati... Di mettermi... Di avere degli obiettivi, di voler andare avanti. Poi il discorso di andare in moto, di tornare alle moto, è arrivato dopo, durante il percorso di riabilitazione. Però penso che il fatto di essere uno sportivo e di essere... Da si è abituato ad affrontare delle difficoltà, le difficoltà che ti pone la natura, il terreno. E quindi io non ho fatto niente... Vedete, Nicola ci parla appunto dell'approccio sportivo che hanno i campioni alla vita in genere, non soltanto allo sport, ma anche al risollevarsi dopo un incidente così grave come quello in Italia nel 2010 che privò appunto Nicola dell'uso delle gambe. Nicola si è risollevato alla grande. Certo, i risultati che ottiene adesso, vediamo se è collegato sempre, eccoci. Ottiene adesso sono frutto di un allenamento pazzesco, un allenamento mostruoso che ti richiede impegno e costanza ogni giorno, di braccia, hai delle braccia pazzesche, ma anche di testo, perché la testa tua fa la differenza. Vedete i percorsi che ho fatto? Io sono quello che inquadra. Davanti a me c'è Nicola adesso del Bosco. La GoPro adesso schiaccia molto l'immagine, ma credetemi erano pendenze importanti a salire e a scendere. C'era fogliame, fango, radici. Nicola ha una guida impeccabile e veramente va fortissimo. Quindi anche l'occhio del campione abituato alla velocità è rimasto anche dopo l'incidente, incidente che invece ha affinato un'altra sensibilità a livello di guida con la parte superiore del corpo. Però quello che fa Nicola in queste immagini, credetemi da indurista, è una cosa incredibile, che ti rapisce. Poi vedete, quando deve fermarsi, un conto è quando cade. Quando cade ovviamente ha bisogno dell'aiuto del seguidore. Quando deve fermarsi, Nicola, in quello c'è veramente un gatto, ti appoggi alla parete, al muro. Ormai mi sono abituato. Ormai mi sono abituato a trovare gli appoggi. Ti ricordi negli anni 80 c'era quella pubblicità del ciclista che si appoggiava alle macchine? Io faccio la stessa cosa quando riesco. Attento a parlare di ciclisti, perché un ciclista, Simone, credo che sia stato anche nella nazionale... Albanese. Ecco, lo sapevo. È stato nella nazionale albanese di ciclismo e anche di sci? Sci potrebbe essere olimpiadi, prossime olimpiadi. Potrebbe essere la prossima sfida. C'è qualcosa che inizia a muoversi in pentola. Potrebbe essere una delle ultime sfide. Ma è un male come idea. Ma adesso, visto che Nicola non ti conosce, dicono anche ai nostri amici chi è Simone. Tu, Simone, sei partito per un viaggio qualche anno fa in Sud America in compagnia. Dove essere, se non sbaglio, qualche mese con una GS e non sei più tornato. Dove essere qualche mese con una GS. Sono partito con una GS e sono tornato con un tenere. Esatto. Dopo parecchi anni. E come è nata l'avventura con... Dovevo stare via sei mesi e sono stati anni. Cosa? L'avventura su Italia 1 è nata... Adesso prosegue con Marika, questa ragazza meravigliosa che ci sta commuovendo tutti. Però è nata in passato con Nathan, questo ragazzino povero, con dei problemi di psicodipendenza devastanti. Ma come è nata la cosa di partire per il Sud America con un figlio non tuo da portare in moto con la tua tenere in giro per il Sud America? È la voglia di far scoprire, di dare nuovi stimoli, nuove motivazioni e forse di aprire la mente a persone problematiche facendogli vivere le mie passioni. Io sono uno che ha bisogno della natura, del contatto con le popolazioni, con la gente, per sentirsi vivo, che forse è lo stimolo che ci porta un po' avanti, che mi porta avanti nella vita. E quindi ho voluto trasmettere queste mie passioni in modo tale da andare a cancellare qualche altra passione proprio non consona alla vita. Giusto. Grazie Simone. Tra l'altro adesso una domanda che mi arriva dalla pagina Nati per la moto chiede come Nicola è arrivato a scegliere i Ghost Rider. Tra l'altro questa domanda mi permette anche di parlare di una cosa, di un partner tecnico che voi avete in comune ma che è davvero molto molto importante parlo di Sena, degli interfoni. Perché senza Sena il vostro lavoro sarebbe molto difficile ma se non impossibile. E voi a casa vi chiederete perché un interfono è così importante. Perché Marika ha esigenze molto particolari. Marika ha bisogno di comunicare, di far capire a Simone le sue esigenze quindi deve parlare costantemente con Simone anche perché deve capire Simone se ci sono problemi. È una ragazza che sulla sedia, su quella sedia particolare può anche avere dei disagi in moto. Dall'altro lato Nicola utilizza tantissimo l'ho visto nel nostro giro insieme gli interfoni per comunicare con i Ghost Rider. Nicola la domanda è per te come comunichi e soprattutto ci chiede questa pagina Nati per la moto come scegli i tuoi Ghost Rider? perché devono anche andare molto forte per seguirti perché Nicola in moto io facevo fatica a seguire le mulattie e a figurarsene in deserto. Beh, allora i Ghost Rider li ho scelti sono venuti da sé. Uno è Julián Villarubia che è un mio ex avversario. Questo l'ho convinto alla seconda parola. d'altronde quando ti ho detto che ho deciso di tornare a correre sono tornato a correre in Spagna alla Bay Aragon quindi la cosa più più bella per me era correre con qualcuno con cui ho sempre lottato poi con Julián eravamo avversari ma ho vissuto a casa sua ce l'allenavamo insieme quindi c'era un rapporto molto particolare. Cerco con gli atleti o dei ragazzi che sono abituati alla fatica perché comunque vada poi nei rally bisogna stare tante ore in moto e bisogna essere abituati a tenere duro perché il che riguarda Sena e gli auricolari gli interfoni per me è fondamentale ho iniziato ad usarli ultimamente guarda dall'Africa Coreis e sono veramente un aiuto in più in gara perché nelle dune riesco a ricarmi Julián magari che sta prima se una duna è tagliata o meno quindi io mi preparo e so come so come affrontarla ma poi soprattutto nel 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 misto io molte volte devo seguire delle traiettorie diverse quindi spostarmi da quello che è la traccia principale che magari è troppo troppo scavata troppo dura creerebbe troppi problemi troppe difficoltà e quindi sono io che comunico a Julián o a la posizione che sono dietro dietro di te 50 metri dietro di te alla tua destra se non mi vedi sono qui non ti preoccupare andiamo avanti così capita anche vabbè noi abbiamo il sentinel che ci avverte se arrivano delle macchine più veloci o dei camion più veloci alle spalle però se se Stefano mi avverte è meglio e mi dice guarda sta arrivando un camion mettiti a destra fermati o rallenta un po' ti passa a destra ti passa a sinistra uno è molto molto più tranquillo e e poi nell'uso di tutti i giorni qui in qui in moto è fondamentale perché vabbè finché sei nei boschi va bene però come hai visto tu sulla strada normale che ci siano lo stop il semaforo o un dare precedenza o salti da una strada sterrati in una strada asfaltata e insomma è sempre meglio mandare qualcuno avanti che ti dica come è la situazione poi mi sono portato ancora oltre uso anche quando esco in handbike un caschetto Sena che ha le stesse caratteristiche dell'interfono è bello perché parlo anche lì con i miei i miei accompagnatori hai poi la possibilità come in tutti gli interfono di rispondere al telefono di avere sempre le mani attaccate al manubrio e per me è fondamentale non potendo mettere i piedi per terra o i piedi per terra in bici e quindi sono contento ottimo ottimi due prodotti perfetto riprendo la parola ecco grazie alla regia tra l'altro la regia non so se hai notato Simone ha mandato in onda delle immagini in cui io palesemente fatico a tenere la scia di Nicola credo che abbiano fatto apposta ma perché eravamo in casa mia io ho l'effetto va fortissimo perfetto il perfetto va il perfetto va veloce da Sempione fino a Piazza San Babila che disgraziato io non so dove sei ah lì in centro a Milano eh certo sì con la bicicletta comunque ragazzi ritorno a dirvi del Motofestival io sono veramente contento di avervi qua perché siete due amici un docufilm è uscito un docufilm della vita di Nicola con Elena per raccontare la tua esperienza conosci i tuoi cani che sentiamo che sono fantastici sono usciti un'esperienza che trovate sul Motofestival guardate il servizio dedicato a Nicola perché è uno dei servizi più belli che abbia mai realizzato andiamo qua anche Simone adesso direi che parto raffica io con le domande perché ne sono arrivate tante vi chiedo di essere velocissimi perché se no la regina tra un po' ci taglia tutti e tre perché abbiamo i tempi i minuti contatti quindi risposte brevi parto con l'ultima domanda al contrario domanda per tutti e due qual è la vostra prossima avventura avete 10 secondi a testa via partiamo con Simone la mia prossima avventura sarà l'Africa in macchina fine anno per una charity benefica andremo da da Tangeri fino a Dakar e andrò con una macchina molto particolare ma ve lo svelerò a breve fantastico Simo Nicola la tua prossima avventura qua sono avventure pesanti e uno ha cominciato con l'Africa avventura l'anno prossimo le Baia però 2022 Dakar Saudi Arabia hai capito fantastico devo finire lo so lo so è giusto finire una cosa non diciamo troppo lo diremo su moto.it passiamo a Matteo domanda secca per tutti e tre attenzione siete tutti e tre innamoratissimi cosa significa per voi la moto vai Nicola libertà vai Simone mi ha copiato la risposta non è giusto libertà libertà e e viaggiare per me è tutto perché è lavoro è passione io dico tutto la moto è tutto è la vita andiamo avanti Simone a fine del viaggio con Marika a livello fisico emotivo sei crollato tra tensione e fatica ed emozioni? sono crollato come ogni viaggio l'impegno la passione la dedizione sono tutte cariche sono tutte scosse cicatrici emotivi che dopo prima o poi ti escono quindi soprattutto quello che grava di più è il carico di responsabilità che hai dai caspita una ragazza giovane ci credo prima volta che esce di casa senza la mamma quella mamma il rapporto anche apro una parentesi il rapporto tra mamma e figlia che è uscito nel tuo nel tuo viaggio con Matteo con Francesca è qualcosa di di incredibile adesso andiamo Nicola mannaggia te l'ho fatta prima la domanda come sei arrivato ai Ghost Rider ci hai risposto e a questo punto ti faccio un'altra domanda come vi siete conosciuti tu e Simone io direi qua adesso però diamo la parola a te dai è qui ci vediamo in faccia per la prima volta effettivamente al telefono domanda per Simone al telefono ok grazie domanda per Simone quanto pesava complessivamente moto carrozzina e ovviamente Mari che hai te tutto l'ambaladano sì 5,50 quella miseria tanta roba sono quasi sono quasi 100 io ma sarai anche più di 100 te adesso andiamo da Nicola qual è stata la prima sensazione nel tornare in moto Nicola mi ripeto ma assolutamente vabbè la prima volta che sono tornato in moto 150 metri di paura e poi l'azzeramento di due anni di sofferenze di nuovo quella sensazione di mi ripeto di libertà che ti che solo la moto ti sa dare libertà gioia felicità è fantastico senti mettici anche adrenalina perché visto quanto vai forte te di adrenalina ce l'ho io a vederti a cercare di sapere se volessi te ultima domanda per Simone ci racconti qualcosa che si possa raccontare che non abbiamo visto in tv devi rispondere qualcosa la domanda la domanda Pietro l'ha fatta qualcosa che si possa raccontare qualcosa che si possa raccontare che non si è visto in tv dai ma non saprei perché per me sono tutti ricordi belli e indelebili quindi ci sarebbero migliaia di cose da dire la cosa più bella si è vista di continuo gli occhi di Marika quindi che non si è visto in tv c'è poco di differente ragazzi grazie mille da parte mia per essere stati al Motofestival grazie a te iniziare il primo giorno con due campioni due amici due campioni di cuore nel caso di Nicola scusa Simone fammelo dire anche di Gasper che rispettano i due lui vive in un altro mondo dove la velocità è su un alto livello però il cuore l'avete tutte e due enorme grazie mille di essere stati con noi e ci vediamo magari nei prossimi giorni sul Motofestival molto volentieri grazie a te una cosa che magari non sono riuscito a dire prima a Simone mi riaggancio proprio brevemente la responsabilità cioè sono rimasto colpito dalla responsabilità che avevi nel portare comunque un sempre sei un passeggero sei responsabile per il passeggero ancora nei confronti di Marika e soprattutto vedendoti guidare nelle strade sterrate in Sardegna con il baricentro spostato in alto dalla seduta di Marika perché la prima cosa che ho visto è che lei era seduta veramente in alto veramente tanto di cappello tanto di cappello 12 centimetri più in su rispetto alla seduta normale sì sì quindi avrai avrai avuto il tuo il tuo bel da fare tecnicamente quello che ho visto io complimenti complimenti per tutto sì 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 Simone Simone ha questo sorriso contagioso sempre però ti fa Andrea fai un lavoro sì dimmi tutto volevo dire una cosa che non lo sa nessuno io sarò il prossimo Ghost Rider di Nicola è vero che ci alleniamo assieme se posso dirla mia Nicola Nicola è meglio di no potrebbe arrivare qualche minuto dopo sempre che arrivi perché anche oggi i ragazzi a casa non lo sapete ma rincorrere Simone è stata veramente veramente dura è impossibile fermarlo ho bacato il secondo eh sì abbiamo ricorso abbiamo preso il Ghost Rider e Nicola tutti e tre insieme che abbiamo preso grazie mille ragazzi e buon Moto Festival a tutti ciao a tutti buon Moto Festival ciao 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 grazie ciao 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 ciao